Vediamo questo esempio di funzione goniometrica fratta. Da studiare, lo dice il testo dell'esercizio, nell'intervallo chiuso di estremi 0 e 2π. Il dominio sarà un sottoinsieme eventualmente improprio dell'intervallo I e in questo caso coincide con l'intervallo I perché dovremmo porre denominatore diverso da 0, ovvero cosen x diverso da meno 2, ma cosen x è sempre diverso da meno 2 perché il dominio della funzione coseno è l'intervallo chiuso di estremi meno 1, 1, quindi non può assumere valori al di fuori di codesto intervallo e quindi non può assumere il valore in particolare meno 2. Dopodiché si calcolano i valori che la funzione assume agli estremi in intervallo. Chiaro che se devo studiare una funzione in un intervallo finito, come è l'intervallo I, non ha alcun senso calcolare i limiti a meno infinito e a più infinito, né altri limiti perché la funzione è definita per ogni x appartenente all'intervallo I. Quindi si calcolano i valori, in casi come questo, agli estremi dell'intervallo. Se i due estremi dell'intervallo ovviamente fanno parte del dominio, in questo caso fanno parte. E sia a 0 che a 2 pi greco la funzione assume il valore meno un terzo. Quindi in pratica abbiamo già trovato l'intersezione con l'asse x. Scusate, con l'asse y. Dopodiché vediamo se sono intersezioni con l'asse x, quindi bisogna risolvere l'equazione 3-4x uguale a 0 che nell'intervallo I ha le due soluzioni x uguale l'arco il cui coseno è 3 quarti o x uguale a 2 pi greco meno l'arco il cui coseno è 3 quarti. Studiamo la positività, ovviamente è sufficiente studiare quella del numeratore in quanto il denominatore è positivo per ogni x. 2 più coseno x, se coseno x è compreso tra meno 1 e 1 è sempre positivo. E quindi bisogna risolvere la disequazione coseno x minore di 3 quarti. L'ho fatto graficamente rappresentando nell'intervallo 0, 2 pi greco il grafico del coseno che è quello che vedete a tratto continuo e quello della retta y uguale a 3 quarti che è quello tratteggiato. E la disequazione, quindi coseno minore di 3 quarti quando x è compresa tra l'arco il cui coseno è 3 quarti e 2 pi greco meno l'arco il cui coseno è 3 quarti. Passiamo alla derivata prima. La derivata di un quoziente si ottiene 11 sen x fratto 2 più coseno x al quadrato. In questo caso il dominio della derivata prima coincide con quella della funzione e quindi non c'è niente da fare, nessun calcolo da fare e la positività della derivata prima coincide con la positività del suo numeratore quindi quando il seno è positivo. E questo accade nell'intervallo 0 pi greco. Il punto che ha coordinate pi greco e sostituendo la funzione pi greco e facendo i conti si ottiene 7 e è un massimo locale o relativo, che dir si voglia. Passiamo alla derivata seconda. Vedete l'espressione. Per studiarne la positività è sufficiente studiare quella del polinomio goniometrico meno cos quadro x più 2 cos x più 2 maggiore di 0 che ha per soluzione cos x compreso tra 1 meno radice di 3 e 1 più radice di 3 dato che 1 più radice di 3 è maggiore di 1 la precedente disequazione diventa 1 meno radice di 3 minore di cos x minore di 1 e quindi x deve essere compresa tra l'arco il cui coseno è 1 meno radice di 3 e 2 pi greco meno l'arco il cui coseno è 1 meno radice di 3 il grafico risulta troncato e 1 meno radice di 3 è un valore negativo quindi è il di sotto. Allora, vedete lì quindi abbiamo due flessi f con 1 tutte e due intanto a tangente verticale e scusate obliqua il primo f con 1 discendente perché attraversando f con 1 la concavità passa dall'alto al basso l'altro invece ha scendente perché accade il contrario il grafico della funzione è quello che vedete e il video è concluso e il video è stato un'altra e il video è stato un'altra